Terzo anno a Viterbo, Luci. Viterbo è nuova, programmi nuovi, intenzioni nuove. Quanto nuove rispetto agli anni passati? Diciamo che io ho fatto, questo è il mio terzo anno a Viterbo, sempre con la famiglia Camilli, che ogni anno che inizia una nuova stagione, inizia sempre con il solito obiettivo e la solita ambizione, che è quella di vincere. Quindi il primo anno ci siamo riusciti, il secondo ci siamo erati secondi, quindi speriamo che quest'anno torniamo ad essere i primi. Speriamo in una vittoria del campionato, anche perché ci sono sempre, escono fuori squadre che nessuno si aspetta, come appunto la Lupa Castelli l'anno scorso, non diano fastidio, ma al di là di questo, o non mettono i bastoni tra le ruote. Ecco, come dicevo anche in conferenza stampa, il mister ha delle esigenze. Chiaramente vi confrontate e a questo punto sta a lei operare. Bene, diciamo che tornando alla Lupa Castelli ce lo aspettavamo, era una squadra fortissima, quindi sin dall'inizio della stagione sapevamo che andavamo a scontrarci con loro per la vittoria del campionato. Sono stati probabilmente più bravi perché sono arrivati davanti a noi. Per quello che riguarda quest'anno, con il mister Sandera, come con tutti gli anni, ci siamo seduti, abbiamo delineato delle strategie di mercato, con ovviamente delle alternative, perché non tutti gli obiettivi sempre si chiudono e ci confrontiamo quotidianamente. Abbiamo le idee chiare e siamo sulla strada giusta.